Una mattinata inutile, una mattinata che riparte in prima commissione senza avere la possibilità di confronto, mancano gli auditi perché così come i consiglieri hanno ricevuto soltanto all'ultimo minuto e nell'ultimo secondo quella che è la richiesta di audizioni, con documentazioni che arrivano in ritardi per tutti e anche per gli auditi, ma ancora di più con una maggioranza che è all'interno di quelle che sono le maglie di questo bilancio, con una mano dà o fa finta di dare agli abruzzesi e con l'altra toglie. Lo troviamo e l'abbiamo evidenziato all'interno di un articolato che questa mattina leggendo insieme ai componenti di maggioranza evidenziava questa criticità, dall'altra parte non è arrivato nessuno e nessuna giunta pronta a dare delle risposte. Un'altra giornata persa, un altro bilancio che parte in ritardo e sicuramente nelle prossime ore non si arriverà a nessun tipo di confronto perché non c'è la volontà di raccontare né a noi né agli abruzzesi quello che accadrà nel 2023.